leggo Renato è un consulente professionale e attento ad ogni esigenza sa spiegarti argomenti complessi in maniera semplice ed esaustiva bla 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 e va avanti questa è la recensione che ha ottenuto sulla sua pagina facebook Renato che conoscerai è un mio cliente che di lavoro fa il consulente di business te la rileggo così che tu possa ascoltarla di nuovo e fare attenzione alle parole Renato è un consulente veramente professionale e attento ad ogni esigenza sa spiegarti argomenti complessi in maniera semplice ed esaustiva non è una bella recensione questa qui perché adesso te lo spiego il titolo di questo video è perché è importante la somiglianza nelle recensioni che otteniamo dai nostri clienti ti spiego che cosa intendo questa recensione che ha ottenuto Renato sicuramente dimostra insomma che verso questo suo cliente si è dimostrato professionale è attento ad ogni sua esigenza e è capace di spiegare argomenti complessi in maniera semplice c'è però un problema di fondo rispetto a questo tipo di recensione un'informazione molto importante che non viene passata a chi legge quella recensione ti faccio un esempio spesso mi capita quando qualcuno quando un nuovo cliente ci contatta e si rivolge a me che ci chieda se per caso abbiamo lavorato con altre aziende del suo settore se mi chiama ultimamente è successo con un ristorante che con il titolare di un ristorante che ci ha contattato per essere seguito da noi una delle domande che ci ha fatto è stata appunto per quanti ristoranti seguiamo la presenza online e la promozione online perché viene fatta questa domanda? perché chiaramente il cliente pensa che se si ha esperienza in quel settore probabilmente si ha più conoscenze si è facilitati nell'ottenere dei risultati cosa c'entra la somiglianza nelle testimonianze quindi? c'entra per un motivo simile a questo cosa manca nella testimonianza che ha ricevuto Renato? manca una qualsiasi possibilità all'utente che la legga di attribuire quell'esperienza alla sua di leggerla come somigliante alla propria situazione ad esempio un ingrediente che deve essere sempre presente in ogni testimonianza che raccogliamo dai nostri clienti che sia scritta o che sia video deve essere il problema iniziale che aveva il nostro cliente che poi noi abbiamo risolto con il nostro lavoro con il nostro prodotto, con il nostro servizio se dovessimo scegliere un dottore, se avessimo un problema fisico che ne so, mal di schiena chiederemmo ai nostri conoscenti se conosciamo un osteopata per fare dei massaggi se tra i nostri conoscenti trovassimo qualcuno che ci dice che il suo osteopata gli ha fatto passare il mal di schiena beh, probabilmente drizzeremmo le antenne rispetto a quello specifico osteopata allo stesso modo quando raccogli le testimonianze dei tuoi clienti devi fargli spiegare qual era il problema che loro avevano prima che lavorassero con te appunto perché chi legge la testimonianza appunto perché affinché i potenziali clienti che leggono quella testimonianza o che vedono il video di quella testimonianza possono riconoscersi nello stesso problema e di conseguenza dare molto più valore a quella testimonianza che il cliente ha fatto per te questo era il consiglio di oggi ciao e al prossimo video